Decimo posto per le ragazze e dodicesimo per i ragazzi, si è concluso così per le rappresentative pugliesi il trofeo delle regioni Kinder Sport dedicato a Cesare Rubini e disputato a Rimini ed in altre località della Romagna. Una sola vittoria per la selezione maschile Under-14 allenata dal duo di Vida Angelilli che ha cominciato il girone eliminatorio con una sconfitta contro la Liguria per poi prevalere su Trentino Alto Adige e cedere all'Emilia Romagna. In fruttuosa la caccia al nono piazzamento nel concentramento che lo metteva in palio. Contro Umbria, Abruzzo e Sicilia sono arrivate altre sconfitte che hanno determinato il dodicesimo posto finale. Tre vittorie e altre tante sconfitte invece per la selezione femminile Under-15 guidata da Alba e Consoli. Dopo aver ottenuto il secondo posto nel proprio girone battendo Trentino Alto Adige e perdendo contro la Toscana, le ragazze hanno mancato contro il Lazio la possibilità di accedere ai quarti. Una sconfitta a spartiacque che le ha fatte scivolare nel tabellone che aggiudicava il nono posto. Battute Campania e Umbria, la scalata di Puglia Azzurra si è arrestata contro la Sicilia per un decimo piazzamento finale.